Chi ancora dimorassero in zona rossa sono invitati a lasciare con immediatezza le proprie abitazioni e recarsi negli alberghi messi a disposizione dal comune. Per informazioni, contattare il numero verde 800 850 114 o consultare il sito internet del comune di Casa Micciola. Attenzione, attenzione! Si porta a conoscenza che a partire dalla mezzanotte di oggi è in vigore all'erta arancione per avverse condizioni meteorologiche. I cittadini che ancora dimorassero in zona rossa sono invitati a lasciare con immediatezza le proprie abitazioni e recarsi negli alberghi messi a disposizione dal comune.